Andrea Pertiresa Non ti desidera come ti desidero io, quando lo baci sono come pugnalate nello stomaco, con te ho fatto tante cose per la prima volta, ho scritto una lettera, ti ho regalato dei figli, eri la seconda ma avrei voluto fossi stata la prima, hai conosciuto anche me, ora ti faccio una serenata A quel punto Gigi Finizio intona amore amaro, davanti a una Teresa visibilmente emozionata, ma prima di andarsene le fa un augurio, tra i tanti amori amari, Antonio ha un amore dolceo Ciao 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 Ciao